Cos'è l'anima per chi crede? L'anima è quella scintilla di luce che il creatore ha messo dentro ognuno di noi per poter esprimere valori, sentimenti, ideali e così vivere nel modo migliore questa vita sulla terra. Quando noi moriremo l'anima torna al creatore che ce l'ha data così come il corpo torna alla terra, l'anima e l'esiste nel nostro vivere.